non rientri nei miei progetti guardate cosa ha detto l'allenatore leggete voi stesso leggete voi stessi leggete io non la leggo proprio perché già che ho detto all'inizio mi basta mi ha messo sul mercato raga non sono io quello adatto alla squadra non loro che fanno cagare a casa io sono il problema operano la sostituzione sostituzione che nelle intenzioni del tecnico dovrebbe dare maggiore vivacità la manovra per trovare il gol del vantaggio vedremo pieno palla riconquistata dalla squadra avversaria abbiamo perso la palla delle volte sfortunatamente bravissimo che l'hai recuperata almeno una cosa giusta su 100.000 la fai ma io ero libero che cazzo fai non me la passi a me vabbè quando sono marcato me la passano traversa che cazzo mi tiri così ha espresso una traversa incredibile partono in contropiede contropiede non troppo veloce che però può farci male la presa passamelo perché sono al centro dell'aria ci posso provare madonna prendetela sta palla prendetela non dormite in difesa andate a marcare la salta bravissimo il mio giocatore ha passato la palla cazzo da solo senza che nessuno gli ha detto niente vabbè ci dobbiamo arrivare ci dobbiamo arrivare troppo tardi ci è arrivato prima lì vedere perché questi possono fare gol possono fare gol possono fare gol noi non li dobbiamo permettere bravo il pallone con questo testa va andiamo in contropiede ma andiamo in contropiede veloci 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 bravo bravo così bravo così vai vai possiamo farlo possiamo farlo se ci fanno vedere i miei compagni solo possiamo farlo da solo io non posso fare niente se la possiamo fare no la parata abbiamo presa dai che dobbiamo vingerla questa non mi interessa niente dobbiamo vingerla per forza ma caro 5 minuti alla fine della partita vai ma vai ma accelera vai a fare gol non passare indietro che cazzo di cross è questo non andiamo nessuna parte così bene qui il difensore a chiudo la linea di passaggio ha riconquistato palla ormai non possiamo fare più niente perché questi non fanno niente non ne attaccano i miei rimangono solo chiusi in difesa e basta ma come potete accontentarvi di un 0 a 0 che passaggi di merda che passaggi di merda io devo bestemmiare per forza prima o poi io se bestemmio qui ragazzi sapete mi bannano e se continuiamo così a fare questa partita di merda io bestemmio e mi faccio andare da qui manco il tempo di fare le line perché voglio strimare perché voglio mettere la vicina facciamo gli allenamenti nuovo livello livello 6 siamo 1 1 contro il venezia che era in prima posizione prima quindi dobbiamo battere assolutamente 1 1 già diciamo non dobbiamo recuperare la manovra per trovare il gol del vantaggio vedremo pierre non dobbiamo recuperare tanti gol almeno basta che ne facciamo uno che per parlare con il colpo provano a girare la difesa subito abbiamo fatto subito anche un bel gol al volo in genere perché non vorrei che adesso ci recuperano la presa del fallo ecco adesso andiamo a forse e facciamo anche un altro ok perfetto perfetto dai 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 fatevi vedere però fatevi vedere perché io così non posso fare niente l'ha fatto bellissima azione bellissima azione ok l'abbiamo presa ok l'abbiamo presa adesso andiamo a spazzare via e ripartiamo il contropiede perché se vi impegnate le capacità le abbiamo forse fuori gioco ed è gol non è fuori gioco 4 a 1 abbiamo fatto un altro gol bravo bravo ha fatto un azione bellissima una cosa una skill bellissima no l'ho passata troppo lunga però abbiamo recuperato dai dai ci puoi arrivare ci puoi arrivare vabbè va bene così dai forse ripartiamo in contropiede dai è che ripartiamo in contropiede no lo dovevo saltare a quello vabbè no deviato il tiro io ci provo e vabbè perchè perchè fate queste cose qua perchè fate queste cose qua vabbè troppo troppo fuori dai che forse facciamo un altro gol e invece no e invece no perchè ci hanno fermato andiamo sta palla per favore ok bene andiamo a ripartire in contropiede per favore questi passaggi veramente non va bene l'importante è che abbiamo vinto 4 a 1 dei gol mossi dei gol degli altri forse forse riusciamo ad arrivare in prima squadra che cazzo di squadra è questa qua io non ci andrò mai in questa squadra a parte che io adesso ho cominciato con questa squadra con il palermo il mio obiettivo adesso è terminare la stagione con il palermo e vincere la serie B siamo a meno 4 punti ce la possiamo ancora fare anche le partite sono tante ancora da fare siamo 0 a 0 contro il Ternano e possiamo ancora farsela vincere ciao ciao Grazie per la visione!